possiamo invecchiare ulteriormente con un pennello asciutto sporcandolo di un colore bianco avorio con uno spillo come questo possiamo realizzare il pomello una maniglia la possiamo fare ad esempio con del filo di stagno che è molto morbido e si può lavorare facilmente appiattendolo per simulare i chiodi per questa porta per queste dimensioni possiamo utilizzare questi spigli diversamente basta appungere il polistirene con uno stecchino per creare delle fessure con il colore terra di siena bruciata andiamo a invecchiare tutte le parti metalliche possiamo invecchiare ulteriormente mettendoci sopra del borotalco ecco l'esempio di una porta invecchiata seguite i presepi di Dario Grazie a tutti